Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolisi. Apriamo con la pagina politica. Dopo un primo rifiuto torna invece il nome dell'euro parlamentare Aldo Patriciello per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Si parla di una sua possibile candidatura al maggioritario Senato. Ascoltiamo. Lotto volante politico è in piena attività. Mancano poco più di 48 ore alla presentazione delle candidature. Meno di 72 alla fine dei giochi che termineranno lunedì alle 20, termine ultimo per la consegna in corte d'appello di nomi, liste e fascicoli elettorali. La novità di rilievo più importante è il ritorno in auge della candidatura al Senato maggioritario dell'eurodeputato Aldo Patriciello. Su di lui continua un pressing multidirezionale sia da Roma che dal territorio e la sua candidatura data per vincente metterebbe tutti d'accordo su un seggio rispetto al quale si spendono nomi ogni giorno e anche più volte al giorno. Oltre a quello del presidente della Lazio Claudio Lotito che appare a cucù un giorno sì e uno no, oggi è spuntato anche quello della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Tra i paracadutati in Molise invece certa la candidatura del segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa al collegio maggioritario della Camera. Cesa andrebbe in quota ai centristi del raggruppamento Noi Moderati. Restando sempre al centro dello schieramento politico tra i nomi indicati a Roma dal segretario regionale dell'Udc Teresio Di Pietro ci sono quelli del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone che andrebbe al Senato proporzionale dell'assessore regionale Filomena Calenda al proporzionale Camera e del coordinatore provinciale Mimmo Itzi sempre al proporzionale Camera. Sul fronte Forza Italia l'assessore Nicola Cavaliere è indicato al proporzionale Senato mentre sempre al proporzionale Senato andrebbe il leader della Lega in Molise Michele Marone. In area centrodestra seppure in posizione defilata resta anche il nome del governatore Toma. Il barometro politico segna invece brutto tempo per le candidature della coordinatrice regionale di Forza Italia Nelsa Tartaglione e quella del pari grado ma in Fratelli d'Italia Filoteo Di Sandro. Dati entrambi per certi qualche settimana fa nei due collegi maggioritari di Camera e Senato appaiono oggi fuori dai giochi. In casa PD continua invece la quadriglia delle candidature con gente a turno che fa la casetta e qualcuno che ogni giorno mentre l'orchestra suona ci passa sotto. Svanita la candidatura di Federica Vinci in quota volte spuntata quella della consigliera comunale di Campobasso Alessandra Salvatore per il maggioritario Camera. Alla fine ce l'ha fatta anche il Movimento 5 Stelle dopo tre giorni di gestazione nella notte scorsa sono stati resi noti i risultati delle parlamentarie. In Molise a correre per la Camera saranno Nicolino Di Michele al maggioritario mentre al proporzionale posizione elegibile sarà candidata come capolista Anna Maria Belmonte. A Di Michele toccherà anche il secondo posto al proporzionale. Al Senato invece sia al maggioritario che al proporzionale la candidatura è andata a Maria Del Mirto. E proseguiamo con la pagina politica perché si sono presentati a Campobasso i candidati di Unione Popolare il raggruppamento che fa capo all'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ascoltiamo. Presentati a Campobasso in piazzetta Palombo i candidati di Unione Popolare il movimento politico fondato dall'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Un primo risultato la formazione lo ha già ottenuto raccogliendo le firme necessarie alla presentazione delle candidature. Al Senato sia al maggioritario che proporzionale sarà candidato il professore dell'Unimol Rossano Pazzagli. È per ridare voce ai cittadini e ai territori che l'hanno perduta. Nel mio lavoro, nelle mie ricerche ho avuto modo di constatare questo. Cioè una società sempre più disgregata con le disuguaglianze che crescono e queste disuguaglianze riguardano anche i territori. Dunque c'è bisogno di riportare al centro chi è stato lasciato ai margini. Ma ai margini non c'è andato per colpa del destino, ma per gli errori, le scelte della politica ufficiale che ha concentrato gli interessi, le attività economiche, i servizi sui grandi centri e ha marginalizzato regioni, territori come questi. Quella di Unione Popolare è una proposta radicale che esula dai poli classici, quali centrodestra e centrosinistra. Io penso che ci sia bisogno di radicalità, ma nel senso di andare alla radice dei problemi. I poli si dice che sono due, poi si dice che sono tre, ma in realtà sono poli che puntellano il sistema. Noi abbiamo bisogno di cambiarlo, di invertire la rotta. Icmet Aslam è invece il candidato al maggioritario Camera e al secondo posto proporzionale al primo la capolista Nicoletta Radatta. Aslam sottolinea la necessità di agire sui redditi, correggendo le storture del reddito di cittadinanza e puntando sul salario minimo. L'obiettivo è 10 euro all'ora con un salario di 1.600 euro al mese. Vivere e far vivere tutti gli italiani in una maniera denitosa, soprattutto sul reddito di cittadinanza che hanno fatto molto male, si poteva fare molto meglio e molti sono contrari. Noi chiediamo, come Unione Popolare, chiediamo un minimo di almeno 10 euro all'ora di lavoratori. Tra i temi del movimento anche quello dell'integrazione culturale tra popoli di estrazione diversa. Io da quando sono qui sono cercato di fare almeno una ponte tra le persone del locale e persone migranti e togliere questo muro che sta tra di loro, c'è sempre una paura che senza conoscere una persona di colore, senza parlare, però c'è paura. E adesso l'aggiornamento dei dati sulla pandemia con l'ultimo bollettino ASREM che riporta 175 nuovi contagi su 792 tamponi processati con il tasso di positività al 22% e ben 685 guariti, due nuovi ricoveri in malattie infettive, due pazienti dimessi ed un trasferimento da infettivi a terapia intensiva. scende a 4566 il numero degli attualmente positivi in Molise mentre i ricoverati al Cardarelli per Covid sono 22. E adesso la cronaca rissa in piena notte a Guglionesi. Un giovane di 34 anni trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo rischia di perdere un occhio alla base della violenta lite per futili motivi l'esasperazione dell'alcol. Ascoltiamo Andrea Nasillo. Botte da orbi, sembrerebbe anche con l'uso di una mazza. Alla base ci sarebbero motivi futili, esasperati dai fumi dell'alcol. Forse una battuta infelice, in un attimo la furia inviale regina Margherita Guglionesi, in piena notte. Una vera e propria rissa, con calci e pugni, diversi giovani coinvolti. Uno di loro, 34 anni, ha avuto la peggio. Un amico lo ha soccorso e accompagnato al Santimotio di Termoli, ma le ferite a un occhio sono apparse subito molto gravi. È stato trasferito all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Al momento non ci sarebbe una denuncia formale, ma in paese l'episodio è finito al centro dell'attenzione. Perché si è potuto accadere? Quale sia il motivo scatenante della lite? La scintilla dalle parole e dalle urla alle mani in poco tempo? Tutto è da chiarire. La strada si è trasformata in un ring. Il giovane, ridotto male, rischia di perdere l'occhio. La Regione Calabria, per far fronte alla carenza di personale sanitario, ha stipulato un accordo con Cuba per 500 medici. Propongo la stessa strada anche per il Molise. Questo l'appello del Primario del Pronto Soccorso di Sernia, Lucio Pastore, che in numerose occasioni ha chiesto un aumento dell'organico anche tra i medici di emergenza e tra quelli militari. Un accordo con la Scuola di Medicina Cubana di Chiara Pastore potrebbe far fronte alla carenza di personale. Il segretario regionale della Lega, Michele Marone, fa sapere in una nota che sono stati destinati al Molise circa 2 milioni e 700 mila euro per progetti e servizi dedicati alla disabilità. Risorse ha spiegato che aiutano le realtà locali a potenziare e migliorare i servizi e attuare progetti di vita per le persone con disabilità e garantire sostegno alle loro famiglie. Un passo avanti, ha concluso Marone, grazie all'impegno della Lega e del Ministro Erika Stefani. L'ambito territoriale di Isernia si è aggiudicato 715 mila euro di fondi del PNRR destinati all'inclusione sociale. Nel dettaglio, con il finanziamento ottenuto, saranno realizzati i percorsi di autonomia dedicati a persone con disabilità. La prima fase riguarderà l'autonomia abitativa e lavorativa dei diversamente abili, compreso l'adattamento degli spazi, della domotica e dell'assistenza a distanza. Verranno scelte 12 persone con apposide modalità e con avviso pubblico che verranno avviati ad un percorso che mira all'inclusione. In questa fase sarà compito del Comune individuare gli enti del terzo settore che gestiranno questo processo di adattamento. Un vero e proprio progetto di vita indipendente, secondo l'assessore alle politiche sociali di Isernia, Leda Ruggero. Una fase successiva invece riguarderà l'inclusione nel mondo del lavoro attraverso il sostegno allo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità. L'intervento riguarda tutti e 24 i comuni dell'ambito territoriale e sociale di Isernia e l'ente capofila. Siamo molto soddisfatti, ha dichiarato infine il sindaco Piero Castrataro, una città inclusiva è una città migliore, attenta e bisogna di tutti. Le risorse ottenute dal Comune di Isernia per le disabilità rientrano negli 8 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha destinato al Molise per favorire le attività di inclusione, ma anche di sostegno per i soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Arriva dalla frazione di Castel Romano del Comune di Isernia la segnalazione di un gruppo di cani randaggi che nelle ultime notti in preda alla fame hanno rovistato nei cassonetti dell'immondizia, rovesciandone il contenuto per strada. Gli abitanti del posto chiedono a gran voce all'amministrazione comunale di intervenire per dare una casa ai poveri cani e per assicurare l'igiene pubblica alla comunità. E torniamo al PNRR in Molise sono in arrivo 69 milioni per gli asili nido tra le candidature accolta quella del Comune di Petacciato. In paese sorgerà un asilo nido da 35 posti ottenuto un finanziamento di 1.278.000 euro. Ascoltiamo Andrea Nasillo. Una struttura di oltre 500 metri quadrati che ospiterà 35 bambini di cui 9 neonati un progetto che ha ottenuto 1.278.000 euro. A Petacciato sorgerà un asilo nido. Accettata e finanziata la candidatura proposta a maggio scorso dal Comune nell'ambito delle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il prossimo obiettivo è vedere i mezzi al lavoro per realizzare questa significativa realtà per la comunità. Un nuovo importante traguardo è la politica del fare ha detto il sindaco Roberto Di Pardo. Le occasioni che il PNRR offre vanno sfruttate, i fondi a disposizione in molte circostanze permettono di compiere progetti e opere rilevanti soprattutto per i paesi più piccoli. L'occhio va ai servizi che la struttura di Petacciato una volta realizzata offrirà ma va anche alle possibilità occupazionali elemento da non tralasciare in un territorio quello molisano da dove soprattutto i giovani vanno via per trovare lavoro. In seguito all'avviso pubblico spazio-scuola l'amministrazione di Campobasso ha individuato l'istituto comprensivo Iovine per la realizzazione in 15 aule al primo piano di un impianto per il ricambio continuo dell'area interna. Lo ha reso noto l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Amorosa rispondendo a un'interpellanza della consigliera del PD Bibiana Chierchia. Inoltre ha spiegato dal PNRR è arrivato il finanziamento per demolire e ricostruire tre edifici pubblici da destinare proprio ad asili e o scuole di infanzia due in via De Gasperi e uno in via Verga sia pure due ammessi con riserva. Tentato furto a Diserdia in un appartamento in pieno centro in un condominio di via Giovanni XXIII i malviventi secondo le ricostruzioni si sarebbero arrampicati sull'impalcatura hanno poi forzato la serratura del balcone e sono riusciti a manomettere l'antifurto. Dai primi accertamenti sembra che i ladri non abbiano portato via nulla di valore forse perché disturbati da qualcuno i proprietari rientrati a casa si sono accordi dell'accaduto e hanno denunciato il fatto dai carabinieri. Presentati stamattina al comune di San Giovanni in Galdo i dati molto positivi dell'iniziativa Regalati il Molise il progetto partito nel 2020 per dare ospitalità gratuita per qualche giorno a turisti italiani e esteri soddisfazione per gli organizzatori che ora parlano di ampliare il progetto facendo rete con altri venti comuni intanto in paese è partito il festival del Morrutto sentiamo Marta Martino Quando il progetto è partito nel 2020 lo scetticismo tutto molisano per le novità ne aveva da subito previsto il fallimento offrire una vacanza gratis di qualche giorno per ottenere in cambio visibilità curiosità e attrarre turismo di un certo tipo in Molise invece la realtà ha smentito ogni pessimista Regalati il Molise l'iniziativa partita da San Giovanni in Galdo ha avuto un successo al di là delle aspettative e a parlare non sono soli numeri quelli reali delle persone arrivate da ogni dove dall'Italia e dall'estero ma anche i tanti messaggi video e fotografie che tutti coloro che hanno visitato il Molise grazie a questa novità hanno lasciato come testimonianza Le buone idee quando passano dai pregiudizi a fatti concreti con i dati che abbiamo dimostrano la validità di questa idea bellissima che è partita dai giovani che io ho sposato subito 8.000 sono state le richieste arrivate via e-mail 240 i turisti che hanno soffrito di una vacanza a San Giovanni in Galdo e poi sono rimasti sul territorio regionale investendo risorse proprie e a loro si sono aggiunti quelli che incuriositi dal passaparola sono arrivati in Molise e hanno pagato di tasca propria tutto il soggiorno quindi gli scettici che parlavano di vacanza regalata che non avrebbe portato a economia sono stati smentiti e ora il progetto di cui anche Franco Arminio il poeta paesologo si è detto entusiasta come ha ribadito in un video vuole fare un salto di qualità per sopravvivere e quindi fare rete con altri comuni con l'appoggio della politica regionale perché questo sia il progetto di tutta la regione è un turismo diverso un turismo esperienziale che ben si coniuga con altre realtà e con altri turismi che sono in Molise sono presenti anche di più elevato livello sia in termini di costi sia in termini di proposizione però noi dobbiamo iniziare a capire che questa terra può offrire esperienze turistiche varicate a cittadini italiani e non italiani che in qualche maniera sono alla ricerca anche di unicum in qualche modo intanto San Giovanni Ingaldo è in pieno morutto street fest tra mostre convegni eventi e musica di qualità tre giorni di eventi non solo eventi musicali ma anche eventi culturali mostre convegni e poi ci saranno il concerto due concerti clu gli statuto e Mario Venuti e ci spostiamo adesso a Bagnoli del Trigno per parlare di un evento dedicato alle eccellenze prodotte in loco ed in particolare al GIN ascoltiamo Giuseppe Carriera è il terzo evento annuale dedicato al GIN nel 2020 fu annunciata la novità oggi si consolida un progetto che unisce territorio natura storia e una fitta rete di collaborazioni consegnando una serata piena di emozioni oltre che un cocktail firmato da un bartender di fama internazionale nato anche gli morise Charles Flaminio un dry un aromatico e uno slow e gin lo slow e gin è per fare quel famoso drink che si chiama Charlie Chaplin ma in realtà nello slow e gin basta fare una dose di 3,5 di slow e gin e 13 di tonica ed esce su un gin tonic leggermente più ruffiano amo molto la duchessa perché oltre a essere l'aromatico però è bello è quello più forte che abbiamo invece l'incendio l'amo con una tonica dry perché si sente di più l'arancio e la cannella il gin è ottenuto da piante officinali coltivate sul territorio di Bagnoli del Trigno in regime di agricoltura biologica e da drupe spontanee raccolte nel verde areale del fiume e delle colline circostanti tutto è tracciato tutto è controllato la nostra lavanda e il nostro elicriso sui nostri terreni diciamo è coltivato in regime biologico distillato presso la nostra azienda dove produciamo l'essenziale di lavanda e elicriso piuttosto che di altri officinali tra le tante cose va anche nel nostro gin la cui base è quella del prugnolo quindi un arbusto spontaneo le cui drupe vengono raccolte a mano nel corso della storia i liquori sono spesso nati in farmacia con un compito importante conservare e veicolare principi benefici anche per la salute il gin tonic nasce come farmaco in realtà dalle bacche di Ginepro si estraevano sostanze antifebbrifughe e antinfluenzali la chinina la tonica che quindi aveva proprietà antimalariche e il limone che serviva per integrare la vitamina C quindi il gin tonic veniva dato nelle navi come farmaco di prevenzione contro la malaria contro l'influenza e di prevenzione contro lo scorbuto l'evento di Bagnoli del Trigno racconta di un amore infinito verso quel Molise che non esiste solo per slogan in effetti come in un mosaico sono invece tanti i progetti le attività e le competenze che si mettono continuamente in moto per valorizzare questa terra Molise Bagnoli Radici Territorio è la nostra mission produrre proporre il nostro Molise il nostro territorio non solo in regione come stiamo facendo questa sera qui a Bagnoli ma esportarlo non solo in Italia ma anche all'estero e siamo fieri fierissimi di tutto questo presente all'evento in costume anche una rappresentanza della associazione Crociati e Trinitari mentre la notte si illumina dei giochi di fuoco di Lucignolo artista danzatore che lascia senza fiato i presenti la storia di Bella Maria Duchessa e Incendio la ritroviamo anche in queste emozionanti immagini Proposte artistiche originali e promozione del territorio nella quarta edizione di Oratino Mac aspettando lo show evento di questa sera con Christian De Sica il festival ha proposto una seconda serata ricca di qualità ascoltiamo ancora Giuseppe Carriera musica, arte, territorio emozioni gli elementi per un progetto integrato che parte da un evento per valorizzare il paese sul palco della seconda serata di Oratino Mac quarta edizione Daniele Gorgone Trio con la voce raffinata e versatile di Ileana Mottono Gorgone è appena uscito con un progetto discografico il disco si chiama Riverdance uscito per la DDR Records di Londra e l'ospite di Flavio Boltro il disco è un po' una sfilata di varie sfaccettature della mia personalità musicale quindi si va da brani in tempi dispari brani swing originali standard arrangiati insomma tutta una diciamo un mosaico che poi tutto composto forma la personalità mia in pratica la direzione artistica dell'evento è affidata da sempre a Simone Sala quattro sudatissime edizioni vorrei dire mi verrebbe da dire perché nel mezzo c'è stata una pandemia e secondo me uno dei punti proprio di forza di Oratino Mac è che nonostante era un festival appena nato ha tenuto duro come i grandi festival quelli che esistono da una vita non perdendo mai un'edizione questo è sicuramente merito del grande lavoro del comune di Oratino e tutto lo staff della regione Molise l'assessorato al turismo che ci sostiene sempre presente alla seconda giornata di Oratino Mac il presidente della regione Molise Donato Toma che ha sottolineato l'importanza del connubio tra musica arte e promozione territoriale priorità anche per l'amministrazione comunale sicuramente anche Oratino Mac contribuisce a valorizzare il borgo perché Oratino è un borgo diciamo unico nel Molise ricco di storia ricco di arte e queste occasioni che hanno diciamo così un respiro sicuramente nazionale quindi non solamente regionale servono proprio a dare quel quid in più Oratino offre in questo periodo visite guidate e mostre il percorso di visita al borgo di Oratino inizia dal Belvedere che è il punto come dire di attrazione immediato per il turista che arriva qui in paese appunto perché c'è un colpo d'occhio meraviglioso molto affascinante poi da lì il turista viene accompagnato verso la piazza dove poi possiamo trovare il palazzo ducale che i duchi giordano nel settecento hanno ampliato con un belloggiato gli eventi sono realizzati con il sostegno della regione morise attraverso il bando turismo e cultura bene termina qui l'edizione della notte del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte grazie a tutti